ciao a tutti ben trovati il mio avversario molto forte molto quotato 2540 punti per lui il che vuol dire che un giocatore senza altro esperto con immagino esperienza anche dal vivo ha iniziato con cavallo f3 contro la quale ho giocato c5 dunque pedone b3 e adesso il tipo di schema che vuole impostare immagino che sia o un doppio fianchetto e anche perché solitamente con b3 questo pedone dovrebbe andare in f4 la presenza del cavallo in f3 non lo aiuta non so bene cosa voglia fare quindi cavallo c6 e di attesa alfiere b2 e adesso lo interrogo sviluppando il cavallo in f6 questa è una mossa quanto particolare perché do a lui la possibilità di catturare il mio cavallo con con l'alfiere il che vorrebbe dire alterare la mia struttura pedonale però dall'altra parte creerebbe una situazione in cui lui mi dà con facilità l'alfiere di fianchetto ci riprovo gioco g6 anche qui alfiere per f6 è il momento di farlo altrimenti il mio alfiere si posiziona in g2 in g7 e ovviamente se lo mi cattura pedone per rovinerà la mia struttura pedonale quanto è difficile dare il proprio alfiere di fianchetto soprattutto se è alla mossa numero 3 o la mossa numero 2 fianchettiamo perché sappiamo che il nostro alfiere di fianchetto è sempre il pezzo più forte 2540 punti sono sufficienti per gestire anche posizioni dove dal punto di vista della strategia c'è un cambio perché io posiziono l'alfiere in fianchetto poi lo cambio chiaramente la mia strategia si deve adeguare al cambio effettuato questa è una mossa più che accettabile dopo analizzeremo la posizione e vi mostrerò che con molta probabilità è la prima mossa nel database le mosse più giocate quindi alfiere per f6 è sicuramente la mossa principale non accetta alfiere g7 vado per la mia strada soprattutto perché lui è un giocatore quotato e non voglio avere tanta differenza di tempo perché nella parte finale quando si giocherà con pochi secondi pochi minuti ovviamente le differenze di tempo pesano un po di più di 3 per lui di 5 al momento di conquistare il centro cavalle 5 mossa tematica eccola qui con l'idea da una parte di sostenere il tutto con f4 e dall'altra magari creare qualche fastidio occupando la casa centrale donna c7 il mio punto di partenza in caso di cattura riprendere i donna su donna c7 arriverebbe senz'altro pedone f4 e a quel punto direi che cavallo d7 e sarà la mia scelta vediamo un po quindi donna c7 pedone f4 cavallo d7 approfittando un po del dell'inchiodatura questa alfiere b2 non è difesa abbastanza e quindi forse per evitare grandi problemi a monte deve giocare la spinta in non deve giocare la spinta in f4 deve cambiare effettivamente così donna per sulla scacchiera a volte ci sono delle scoperte e spostando questo cavallo giocando sul fatto che quest'alfiere non si è difeso di fatti d4 è una mossa interessante però su d4 se lui cattura il mio cavallo salta al centro lì sarei più che contento e su d4 lui mi chiude ok è una posizione un po più incerta un po difficile un po più difficile da sviluppare devo capire dunque come gestire i miei pezzi decido ok ancora non sono sicurissimo di piazzare una torre d8 ok nel dubbio la torre d8 guarda da lontano a raggi x la donna avversaria e la torre d8 magari si sottrae a intermedio in cui o meglio nelle quali lui mi cattura l'alfiere in g7 e mi guadagna la mossa contro questa torre che non che non era abbastanza volte difesa ok la torre si sposta la donna si sposta qui è un gioco di attesa il primo che avrà fretta di ottenere vantaggio probabilmente sarà colui che perderà qualcosina qualche momento b5 sulla scacchiere nel dubbio prendo spazio magari quest'alfiere potrebbe andare in b7 e su questa la cattura è il mio punto di partenza oppure b4 perché no magari b4 alla prossima arriva 5 l'alfiere lo posiziono su questa diagonale lunga quindi mi piace così come l'alfiere che va in a6 sempre direzione e arrocco corto a5 sulla scacchiera non voglio pensare troppo soprattutto voglio evitare che lui ponga un pedone in a5 alfiera 6 il mio piano già si sta delineando la spinta del pedone in c4 è la mia idea e donna c7 si sottrae all'attacco del cavallo ok oggi le frecce non riesco a disegnarle in modo corretto comunque la donna si sposta in c7 questo cavallo verrà scacciato cavallo d7 lo vuole attaccare cavallo g4 possibile o meglio cavallo g4 come idea possibile accettabile però in questo momento sicuramente no cavallo d7 punto di partenza che viene controbattuta da donna per 7 e allora in questa posizione vediamo un po cosa fare potrei giocare c4 o rallentare il tutto giocando e6 e6 perché no e6 mi sottraggo a donna per 7 rafforza il centro a tratti in alcuni casi evito la spinta in f5 che poteva dare a lui un po di iniziativa e quindi in questa posizione e vediamo un po tutta da giocare ok questa mi è sfuggita effettivamente questo pedone aveva un ruolo la difesa di del punto f6 d'accordo d'accordo vediamo un po come proseguire questa mi è sfuggita la buttiamo in cacciara con d4 e mi sa di sì andiamo verso il torbido nel momento in cui un giocatore vi sorprende magari si creano complicazioni e se giocate in modo semplice quindi io catturo lui mi cattura quindi se giocate in modo semplice chiaramente la posizione che otterrete sarà una posizione difficile allora cerco di complicare con d4 che comunque si attacca un pedone in e3 quindi pedone 3 è possibile e così come si può minacciare in alcuni casi il salto stesso in e3 quindi cavallo d5 con l'idea di saltare in e3 ok pedone per significherebbe pareggiare il numero di pedoni perché chiaramente va bene altrimenti cavallo d5 cavallo d5 lumi cattura io catturo alfiere per donna per c2 buttiamo tutto in cacciara cerchiamo di confondere un po l'organizzazione dei pezzi avversari e questo ingresso questa casa debole in e3 chiaramente potrebbe essere utile la l'ingresso in e3 è tipico e c'è una confutazione del o meglio c'è una variante che chiaramente è favorevole al nero nel sistema di londra dove il cavallo salta dal nulla in g4 per l'occupazione di e3 e anche in questa esattamente in questo momento l'idea risulta essere la stessa quindi da d5 voglio saltare in e3 se lui mi cattura ricatturo attivo la donna minaccio donna per c2 il salto in e3 è comunque sia possibile e come avete visto la mia strategia nonostante sia in difficoltà perché mi sono beccato un trucco lo ammetto mi sono beccato una tattica evitabilissima quindi ho perso un pedone adesso la mia strategia è cercare di rendere il mio avversario il gioco il più complesso possibile cercare di complicare il più possibile la posizione per indurlo all'errore il fatto che lui stia pensando parecchi secondi mi fa ben sperare che questo margine di errore possa aumentare tra l'altro ma questa in realtà non è la mia idea anche la cattura in e5 potrebbe essere nell'aria non è la mia idea perché l'unico e miglior difensore che abbiamo all'interno dello schieramento del nero è senz'altro l'alfiere di fianchetto ok cavallo g4 sulla scacchiera se io catturo lui mi vuole togliere il mio forte alfiere d'altra parte e probabilmente vuole giocare qualcosa come cavallo e7 meglio cavallo h6 vediamo sempre nell'ottica di complicare il gioco probabilmente f5 riesce in questo e vado con f5 cavallo h6 ok la subisco però mi nascondo qui e la sua donna dovrà restare a contatto con il cavallo d'altra parte il cavallo è sempre il difensore del punto e3 ok caro caro amico hai un pedone in più però sono pronto a renderti la posizione più complessa più complicata quindi se cavallo h6 mi sposto e se cavallo e5 chiaramente la cattura è da valutare ma non è la mia idea è proprio l'ultima mossa che realizzerei in questo momento qualcuno mi ha già chiesto se porterò il video delle mie partite con con o contro re enigma la risposta è soltanto una restate sincronizzati sul canale lo scopriremo soltanto tra qualche settimana qualche mese ok allora questo cavallo e o meglio la sua donna è a contatto con il cavallo quindi questo cavallo bisogna capire un po cosa voglio fare ok pedone per la cattura di pedone mi sembra parecchio forte perché libero la traiettoria della donna che vuole entrare di forza in c2 attaccando due pezzi non difesi e lascio anche l'idea al cavallo che possa andare in e3 a questo aggiungo che un'altra mossa un altro piano che è tematico ossia approfittare dell'apertura della colonna g portando e la torre in in gioco in attacco ok la partita continua donna per guadagna un pezzo ovvero che permette questa quindi donna per è un'idea però bisogna giocarla con attenzione e alfiere f6 alfiere f6 perché no attacco la donna deve spostare la donna se viene h3 non metterà la torre lì e se va in h5 se va in h5 occhio perché cavallo per f4 va bene la tipica mossa che qualche fastidio comunque riesce a darlo la donna in h5 da parte sua vuole minacciare questo ingresso e allora direi che torre a7 lo impedisce lo blocca quindi torre a7 per controllare questa casa donna h5 la considero forzata tanto ho più tempo quindi sono contento possiamo parlare due minuti in più che è la differenza di tempo tra me e lui quindi su donna h5 minaccia l'ingresso a quel punto torre a7 mi sembra fortissima perché mantengo l'idea di entrare con cattiveria sul punto c2 su donna h5 ovviamente e donna per bisogna analizzarla tanto gioco torre qui controllo totale della traversa donna per potrebbe essere una minaccia scusate donna per potrebbe essere comunque una minaccia perché sul cavallo f7 scacco interviene la torre donna per ad occhio dovrebbe vincere donna per cavallo f7 ti do la torre e poi ti catturo è uno dei due alfieri probabilmente questo qui probabilmente quello quindi vediamo un po insieme e io catturo tu mi descacco sacrifico tu mi catturi ti mangio questo alfiere torre h3 mi minaccia matto per alfiere g7 difende tutto quindi dovrebbe andare preso alfiere g7 forse c'è alfiere per d4 sfruttando l'inchiodatura ok così ci siamo persi mi sono perso anch'io quindi donna per scacco torre per donna per se mangio qui torre h3 mi minaccia matto alfiere g7 difende e alfiere per d4 vuole togliere il mio alfiere che difende e allora potrei giocare donna per cavallo f7 catturo in pratica catturo tutto però poi mangio questo alfiere di case scure ma si dovrebbe andare quindi andiamo verso questo percorso e catturo questo in fondo l'attacco su quest'altro resta e la minaccia con cavallo e3 chiaramente potrebbe creare qualche qualche problema vediamo cosa accade se lui inverte l'ordine di mosse perché potrebbe giocare subito torre h3 e a questo punto cavallo f7 e minaccia comunque qualcosa non dovrebbe cambiare nulla perché torre h3 io ti catturo cavallo f7 ti do la torre tu mi con la donna ok su questa volevo dare la donna e torre per donna per è quello che stava analizzando prima dunque lui potrebbe proseguire con torre h3 minacciando matto alfiere g7 l'unico modo che è il nero per difendere torre g3 potrebbe riproporre il matto a quel punto torre g8 dovrebbe essere un po tutto sotto controllo soprattutto perché è un tema tipico di rifugiarsi in scacchi perpetui è tipo torre per io catturo e su donna f8 la torre torre indietro e donna f6 darebbe scacco però fortuna vuole oppure è dovuta al calcolo vi assicuro che è dovuta al calcolo il cavallo in d5 ha un ruolo fondamentale importantissimo perché tiene sotto controllo il punto f6 quindi questa partita sembra prendere una piega positiva perché comunque sia il parziale dice due pezzi per la torre due pezzi per la torre sono sempre migliori per il giocatore che ha due pezzi soprattutto in in medio gioco e in apertura poi in finale dipenderà comunque minaccia immediata donna per e2 e a volte questa salverà tutto cavalle 3 perché no anzi cavalle 3 in questo caso perde per via del matto ma oltre al matto donna per f6 ok arriva l'attacco l'avevo proposto prima ne avevo parlato prima e forse può fare un tentativo del genere magari alfiere h5 ed alfiere g6 perché si minaccia torre per h7 matto e quando io difendo con h6 ci sarebbe torre per h6 matto quindi immaginate che il solfiere va qui io gioco h6 lui mi cattura io ricatturo e il matto finale con donna h7 però solfiere qui non dovrebbe avere il tempo di impostare il suo gioco perché vale 3 ok la partita è andata in questo modo quindi lui è consapevole che non ci sia stato che non ci sia alcun attacco immagino che voglia proseguire con questa mossa e allora bisogna giocare con attenzione per trasformare convertire il vantaggio e materiale perché come dicevo prima i due pezzi sono molto più forti e in vittoria se io salto qui quello che non mi piace è in realtà donna g6 che mi minaccia questo pedone e quando io gioco h6 mi sacrifica senza pensarci troppo e allora ok lui mi sta anche minacciando quest'alfiere e direi che l'alfiere può tornare indietro in c8 c8 tiene tiene tutto e su donna g6 quindi mi sta minacciando questo e su donna g6 che era la mossa che consideravo e mi difendo dal matto giocando cavallo f6 così gli togliamo a monte tutti i temi di sacrificio e cosa molto importante che potrebbe creare qualche problema adesso la sua torre è vincolata alla permanenza sulla colonna h d'accordo ok la partita prosegue attacchiamo questa donna tipo così possibile e h6 non necessaria non è necessario spingere quei pedoni altrimenti rientrare tipo con donna d2 e rientro qui ok cosa vuole fare lui non lo so comunque donna d2 non può che essere giusta magari minaccio scacco per per rientrare il suo re all'angolo un re all'angolo è sempre qualcosa di positivo e oppure donna per b3 materialista vediamo se è il caso di essere materialisti non non ho chiaro cosa voglio fare perché non riesce ad attaccare questo pedone va bene andiamo per donna per b3 non riesce ad attaccare ulteriormente questo pedone e la mia idea potrebbe essere anche donna per d3 oppure semplicemente tornare indietro donna e6 donna g8 ok lui si toglie tutte le semplificazioni mi vanno bene tra l'altro molto più tempo e donna per d3 non mi credo che ci siano scoperte vincenti quindi io adesso catturo tutto perché su torre per cavallo qui e adesso mi limito a cambiare le donne queste sono mosse di cui non ho molto bisogno di pensare e adesso questo pedone è importante che vada a promozione vediamo se io spingo lo si mette davanti se scendo giù lo va con il re e sono sicuro che lì ci sia una combinazione vincente e però chissà il modo più facile spingere torre qui oppure cavallo g4 cavallo g4 magari più facile minaccio e2 torre d1 partita parecchio complessa ok forse anche qui e2 lo stesso perché se lui cattura guardate che fu che carina se lui cattura c'è il matto in fondo e purtroppo visto che non può catturare occhio perché arriva lui arriva questo alfiere fortissimo vediamo se qui ci sono altre reti di matto potrei creare parte che anche la spinta di questo pedone vincente ho molto più tempo però voglio giocare per il matto questo pedone io lo diamo lo mantengo in gioco lo mantengo in gioco ok alfiere f3 alfiere a6 questo pedone vuole restare in gioco e adesso è giunto il momento di coordinare i pezzi per promuovere quindi posso giocare va bene torre d1 va bene scacco e semplicemente torre d1 non mi cattura doppio cattura anche l'alfiere e non ha più tempo quindi qualsiasi cosa faccia va bene e mi limito semplicemente a dare scacco ok adesso chiaramente a corto di tempo non poteva essere così preciso anche il 2540 è stato fatto fuori torniamo dunque all'apertura qui ci sono tanti modi per proseguire dicevo che il bianco vuole conquistare questa casa da nero non sono molto d'accordo e quindi cerco di dargli un po di fastidio la partita prosegue in questo modo alfiere a6 cavallo e5 donna c7 e perché voglio giocare contro quest'alfiere e poi dopo e6 effettivamente mi sono beccato questo questo trucco quando accade qualcosa del genere qualcosa di incontrollabile qualche svista le sviste le facciamo tutti e deve cambiare l'atteggiamento non bisogna più giocare in modo tranquillo perché in modo tranquillo perderemo la partita allora bisogna giocare per complicare il gioco e quindi come vedete anche qui la mossa secondo il software secondo il computer è catturare in g6 però la posizione sarebbe persa la considero molto più facile per lui e allora mi getto nelle complica complicazioni con d4 che dà esattamente un vantaggio di due punti cavalle 5 cavallo d5 deve dimostrare di avere questo vantaggio perché comunque sia ho del controgioco la partita è andata così e adesso in realtà il vantaggio ce l'ho io perché ho coordinato meglio i pezzi quindi ff6 ti attacco tor a7 donna per c2 punto interrogativo secondo lui tor f8 per evitare questo salto però la partita poi ha preso una direzione concreta qui sacrifico secondo il computer c'è un perpetuo però difficile ok con questa questa e questa che mi attacca alfiere cavallo cavallo c7 l'avevo vista e in realtà mi piaceva anche cavallo c3 secondo il computer questa è una posizione equilibrata però dal punto di vista umano per esperienza direi tutta la vita giocare con il nero che ha due pezzi in più due pezzi per la torre adesso questo è il modo più facile per evitare complicazioni difendendo il punto h7 dopodiché mi sono limitato a mangiare tutto cambiate le donne non c'è più molto da fare per lui infatti poi la posizione è stata vinta e allora ci vediamo prossimamente con un nuovo video ciao a tutti e alla prossima